Presidente, qual è lo stato di salute dell'industria abruzzese? Come spesso avviene in questi casi, e come si dice di solito, a macchia di lopardo ha dei momenti di effervescenza e momenti invece di efflessione. Complessivamente abbiamo una semestrale che, contrariamente alle precedenti, registra alcuni segni di positività, in alcuni settori particolari, tipo il farmaceutico, tipo il mobile e il legno, tipo l'agroleo alimentare. Sono tutti settori che stanno dimostrando una certa ripresa, soprattutto sulle esportazioni. Resta l'automotif, la zona della Val di Sangro, il pezzo forte dell'industria abruzzese? E certamente sì, c'è una forte concentrazione di grandi imprese che producono ed esportano soprattutto. Si parla di crisi a livello globale, a livello anche nazionale. In Abruzzo qual è la situazione e soprattutto, Presidente, quali sono le prospettive per questo 2015? L'Abruzzo sostanzialmente rispecchia l'andamento generale nazionale. Abbiamo e registriamo, e il nostro studio lo mette in evidenza, una forte carenza di investimenti. Questo è un dato, ovviamente, che trascina poi la negatività del settore in generale. E proprio nelle ultime ore sono stati resi noti nuovi dati sul lavoro che vedono la disoccupazione nuovamente in crescita. Penso che il dato sulla disoccupazione sia questo, cioè nel senso che non abbiamo una tendenza crescente e prima della fine del 2015 non vi saranno aggiustamenti su questo dato. Tenuto conto che gli effetti di riprese di cui si sta tanto parlando sono effetti che avranno luogo nel secondo semestre. Comunque, gli aggiustamenti saranno aggiustamenti non intensi, saranno aggiustamenti parziali, perché il clima complessivo è sì di riprese, ma non è di ripresa molto leggera, tant'è vero che per l'Italia si prevede uno 0,5% in più. Quindi non ci troviamo di fronte a una vera e propria inversione di tendenze, ci troviamo di fronte al fatto che la recessione sia finita. Ecco, questo è il dato importante.